Buongiorno, benvenuti alla video chat di medicina, oggi dedicata alla sclerosi multipla, siamo con il professor Diego Centonzi, direttore della neurologia di Neuromed di Pozzilli in provincia di Isernia. Neuromed è un centro specializzato proprio nelle malattie, tutto quello che è neurologia, neurochirurgia, riabilitazione neurologica, la sclerosi multipla sembra che sia un aumento, comunque si fanno diagnosi sempre più precoci, quindi è un problema che riguarda molte persone e soprattutto giovani, perché colpisce persone giovani, no professore? Assolutamente, è una malattia che colpisce in genere tra i 20 e i 40 anni, in genere il sesso femminile più colpito degli uomini ed è una malattia che ha delle caratteristiche cliniche molto differenti da soggetto a soggetto. Allora cominciamo con la prima domanda, poi vediamo di commentare altre cose. Anna, buongiorno, la sclerosi è malattia genetica o autoimmune, oppure di che natura è? E' entrambe le cose, in effetti c'è senz'altro una quota di genetica che però non è sufficiente per indurre la malattia, in qualche caso è più pesante la genetica rispetto ai fattori ambientali, però in genere deve esserci un incontro sfortunato tra una predisposizione genetica e alcuni fattori ambientali solo parzialmente noti, quindi virus, fattori alimentari, fattori tossici e così via. Si sta cercando di capire adesso quali sono i fattori che possono aiutare lo sviluppo della malattia? Si studiano da diverso tempo questi fattori, certamente abbiamo una buona comprensione di alcuni di essi, non abbiamo però un quadro del tutto definito su quali sono le cause ultime della malattia. Autoimmune anche, dicevamo? Si, la genetica e l'ambiente contribuiscono a innescare una risposta autoimmunitaria, una risposta in cui cioè il sistema immunitario è confuso e non fa le giuste distinzioni tra sé e virus o batteri o cellule tumorali, cosa che è chiamato poi a combattere. Quindi attacca una porzione del cervello e del midollo che è la mielina, che è questa guaina che ricopre gli assoni permettendo agli assoni di trasferire correttamente le informazioni e questo causa la demilinizazione e in seguito anche la degenerazione dell'assone. Ecco, il fatto che ci sia anche qualcosa di genetica vuol dire che ci può essere anche familiarità? È una familiarità molto piccola, in effetti nelle famiglie di chi è colpito da sclerosi multipla c'è maggior rischio di sviluppare la sclerosi multipla, però è un rischio veramente molto minimo, non vorrei assolutamente allarmare laddove c'è un paziente con la sclerosi multipla dire che la famiglia può stare assolutamente tranquilla, non è necessario fare esami per accertare la malattia in persone e con sanguine a chi è ammalato. Santo 5. Quali sono gli esami da fare per capire se si soffre di sclerosi multipla? Intanto mi perdoni, prima degli esami ci deve essere qualche sintomatologia perché per esempio gli esami si fanno a bambere, immagino. Esattamente così, non c'è motivo di fare degli accertamenti che non... Questi sintomi non devono essere trascurati, bisogna andare dal neurologo. Ci faccia un esempio. Ma intanto possono essere la sclerosi multipla è una malattia che colpisce diverse distretti del cervello e del midollo e quindi può dare sintomi molto vari, disturbi della forza, della sensibilità, dell'equilibrio, della vista eccetera. Tutti questi sintomi però devono durare almeno due o tre settimane, quindi non il fugace formicolio che molti di noi hanno magari perché hanno un movimento abnorme del braccio durante il mantenimento di una certa postura. Quindi assolutamente sintomi prolungati nel tempo. Può cominciare già con una certa debolezza nel tenere gli oggetti o nelle gambe? Già quello può essere un primo sintomo o è una cosa un po' più in là? Può essere un primo sintomo. Va detto però che in genere i sintomi che allarmano sono quelli che hanno una congruenza con l'anatomia del sistema nervoso centrale. È difficile che ci sia una sintomatologia contemporanea a entrambe le mani per quanto una lesione cervicale può dare questo disturbo. È più facile invece immaginare una lesione che interessando solo un distretto del corpo o del cervello colpisca solo un lato del corpo. E anche questo deve durare qualche settimana per andare da uno specialista. Ho detto questo, quali sono gli esami da fare per capire se si soffre di sclerosi multipla? Ci sono degli accertamenti immagino? Sì, innanzitutto certamente l'esame che ha rivoluzionato la diagnosi della sclerosi multipla è la risonanza magnetica. La risonanza magnetica è in grado di cogliere qualsiasi manifestazione di infiammazione a carico della mielina ed è in grado anche di cogliere dei processi più sottili ma che attualmente vengono molto enfatizzati nella progressione della malattia che sono segnali di atrofia, di neurodegenerazione. Quindi assolutamente la risonanza magnetica è l'esame principale, ma accanto a questo ci sono i potenziali evocati che valutano con metodiche neurofisiologiche. Cosa sono? È una parola difficile detta così? Sì, sono delle metodiche di stimolazione di alcune vie nervose e si valuta la velocità con cui lo stimolo raggiunge per esempio la corteccia sensoriale se si stimola un nervo sensitivo della gamba per esempio e laddove c'è demilizzazione c'è un po' un rallentamento della conduzione nervosa e questo può essere un segno. E poi anche la puntura lombare, diciamo un esame... Quella si fa dopo? Questo in effetti spesso non è strettamente necessario fare la puntura lombare per la diagnosi basta la risonanza magnetica e le caratteristiche cliniche e dei sintomi di presentazione però dà delle informazioni molto importanti anche per la prognosi e di conseguenza per la modulazione, la corretta impostazione della terapia. Ecco, lei parlava di risonanza che fa vedere l'infiammazione della mielina se non sbaglio. Sì. Come si presenta l'infiammazione? Cioè si riesce addirittura a vedere l'infiammazione? Si vede l'infiammazione se l'infiammazione è recente, cioè se c'è un esame di risonanza magnetica viene fatto durante una fase attiva della malattia il segnale tipico è la presa del mezzo di contrasto alla risonanza magnetica. Quindi normalmente il cervello è separato dalla circolazione da quella che si chiama barriera ematoencefalica, questa barriera che separa appunto il cervello dalle sangue. Quando c'è un'infiammazione attiva questa barriera è alterata e quindi c'è uno stravaso del mezzo di contrasto all'interno del cervello. E' un po' di vederlo con esattezza. Andiamo da Giorgio. Salve, l'integrazione di dosi massicce di vitamina D proposto dal dottor Coimbra ha dei risultati che la medicina ufficiale sembra snobbare. Perché non ne parla? Perché lo ha detto? Perché effettivamente la medicina ufficiale ancora non è in grado di dire con assoluta certezza che i sovradosaggi di vitamina D possano aiutare. Quello che è certo è che la vitamina D è un importantissimo fattore da somministrare, da considerare sia nel sviluppo della malattia, sia necessario correggere laddove c'è una ipovitaminosi documentata con dosi terapeutiche. Non c'è nessuna ragione di pensare che andare oltre quello che è la correzione di un deficit possa dare dei giovamenti ulteriori rispetto a quello che è la normale correzione. Ecco, ricordiamo che comunque la medicina ufficiale va per sperimentazioni ripetibili e per sperimentazioni scientifiche con basi di certezza, diciamo. Certo, assolutamente. Qualunque affermazione si possa trovare, consultando un clinico, ovviamente, è il prodotto della deposizione di tanti anni di studio e di documentazioni approfondite su diverse questioni. È chiaro che molte delle ipotesi, che ancora sono ipotesi, che non possono avere ospitalità in uno studio medico, domani probabilmente lo avranno. Quindi anche i sovradosaggi, il metodo Coimbra, magari domani si scoprirà essere la terapia definitiva e risolutiva della schiosi multipla. Oggi non possiamo parlare perché ancora non ci sono dati sufficientemente solidi. Bene, Stefania D'Avelletri ha detto che colpisce di più le donne. C'entrano gli ormoni? Eh sì, c'entrano gli ormoni. Non si sa bene, comunque è qualcosa che ha a che fare con gli ormoni sessuali. Ci sono anche, dall'altro, dei dati interessanti che fanno vedere come, ad esempio, anche l'assunzione di integrazioni estroprogestini, che può avere degli effetti di modulazione sulla terapia. Il ruolo degli ormoni si può vedere anche nell'effetto protettivo che la gravidanza ha sulla malattia. Quindi si sta meglio durante la gravidanza? Sì, durante la gravidanza in genere si riesce a controllare la malattia meglio, anche se non si assume alcuna terapia. Andiamo avanti, se ci sono domande. Eccola, Roberta 98. Quali, se ci sono, le cause e le concause scatenanti? L'abbiamo un po' detto prima, diciamo, che però non c'è una gran certezza di nulla. Ce ne sono tantissime e se ne scoprono in continuazione. Quando parla di ambiente, scusi, a che si riferisce lei? L'ambiente è per esempio alcune infezioni virali. Direi che il dato più solido che sta prendendo sempre più piede in questi anni è il ruolo del virus di Epstein-Barr, un virus che normalmente conosciamo perché è la causa della mononucleosi infettiva e di altre malattie più banali, che effettivamente è stato in maniera molto convincente associato al rischio di sviluppare la sclerosi multipla. Quindi è assolutamente questo il fattore probabilmente più solido, il fattore ambientale più solido. Lo state studiando ancora? Sì, assolutamente sì. La ricerca è molto attenta su questo fattore, però non è l'unico. Il fumo di sigaretta, alcune abitudini alimentari sbagliate, la carenza di vitamina D e quindi la ridotta esposizione al sole che causa un deficit di vitamina D sono tutti fattori riconosciutamente associati a un maggior rischio di sviluppare la sclerosi multipla. Però ancora bisogna, cioè non è che proprio causa-effetto, diciamo, potrebbero essere con cause, potrebbero essere più di una la causa, potrebbero insomma... Devono trovare un terreno predisponente perché il loro effetto possa poi tradursi nella malattia. Questo vuol dire che non si può fare prevenzione in questo momento? Si può fare, ma che non possiamo essere certi di riuscirci, né tantomeno dobbiamo pensare il virus di Epstein-Barr, che abbiamo detto associato alla malattia, comunque colpisce il 90-95, se non la totalità delle persone in età adulta. È solo una minoranza di noi sviluppa la sclerosi multipla, così come altre malattie. Quindi assolutamente non c'è un rapporto di un nesso di causa-effetto immediato, ma deve esserci assolutamente un contesto che in qualche modo favorisce poi il virus. Marco, chiedo al professor Centonzi, sono venuto in ospedale in Molise, dove lei mi ha gentilmente ricevuto, ma sono ancora in attesa di un appuntamento, ricovero per il quale non sono mai stato contattato. Ci sono liste lunghe? No, in genere no, ma prenderò nota di questo messaggio e solleciterò. Marco si chiama Marco, però non ci dice il cognome. Se ci fa sapere il cognome, solleciterò perché venga chiamato prima possibile dalla segreteria. Grazie, andiamo avanti. Ecco appunto, dicevamo che è in aumento la sclerosi, nel senso che sembra in aumento perché ci sono più diagnosi precoci, o è realmente in aumento? Credo in trame... Vi dicevo una cifra brutta prima, dietro le quinte. Eh sì, credo ci siano entrambi i fattori. Certamente la diagnosi è più precoce e adesso abbiamo molta più attenzione. Le risonanze magnetiche vengono prescritte molto più velocemente. Del resto, a conferma di questo, si è scoperto tutto un sottobosco di malattie non conclamate, che si chiamano sindrome cliniche solo radiologiche, che vengono scoperte per caso. Solo radiologiche, quindi si vedono soltanto se si fa un esame radiologico? Esattamente, persone che magari hanno un incidente col motorino o hanno il mal di testa, fanno la risonanza magnetica, quindi per tutt'altro motivo, e si riscontra in questi pazienti le lesioni che potrebbero essere indicative di sclerosi multipla. Chiaramente quella non è una diagnosi sclerosi multipla, la sclerosi multipla si può diagnosticare solo se ci sono delle manifestazioni cliniche. E che vi fa pensare questa roba, diciamo, queste cose asintomatiche? Questo è qualcosa che ovviamente necessita un follow-up, quindi i pazienti non devono essere trattati se hanno soltanto evidenza radiologica, però è evidente che se anche hanno comunque un accumulo di lesioni e risonanze successive, si può considerare l'opportunità di bloccare con i farmaci eventuali nuove lesioni, e quindi prima o poi dei sintomi. Andiamo da Paolino. Oggi ho 69 anni, ho sclerosi multipla dal 2000, quindi 19 anni, in quiescenza da 13 anni, in cura con ReBIF 44, tre volte a settimana. Devo continuare a vita? Beh, se è come dice la malattia in quiescenza, direi che è il caso di continuare. ReBIF tre volte a settimana è una terapia standard per la cura della sclerosi multipla, una terapia certamente efficace, certamente sicura, che può essere prolungata per molto molto tempo. In qualche caso una terapia come ReBIF o altre può, anche per periodi di 19-20 anni, in più di qualche caso per fortuna, dare un controllo ottimale della cura. È chiaro che in casi così vincenti non è pensabile cambiare cura, non è consigliabile. Si rischia se si toglie il farmaco? Certamente, si rischia, anche se in qualche caso la malattia dopo un certo periodo di tempo si spegne, naturalmente, comunque è impossibile sapere se è davvero il caso di sospendere la cura quando c'è una stabilità. Non è infrequente osservare delle riprese di malattia dopo sospensioni di terapia per molti anni. Questo volevo chiedere, se voi sospendete la malattia riprende, sarebbe stato meglio non farla riprendere? O poi si arriverà in quescenza nuovamente? Insomma, come vi trovate di fronte alla malattia che si riattiva? Di fronte alla malattia che si riattiva si può ricontrollare, con lo stesso farmaco che è stato sospeso evidentemente e erroneamente, ma sono degli errori che a volte è spesso impossibile evitare. Generalmente è abbastanza raro che la malattia riprenda in modo più aggressivo di come non sia stata in passato. Ci sono dei casi di rimbalzo clinico per cui ci può essere in modo transitorio dopo la somministrazione di un farmaco una riattivazione della malattia, ma in genere la malattia riprende con la sua stessa caratteristica. Quindi che consiglia questo signore lei? Di continuare la terapia, mi sembra di capire? Di questo ne deve parlare ovviamente col suo medico, bisogna avere una idea più completa degli effetti collaterali. Perché potrebbe essere uno di quei casi in cui si può provare a interrompere? Certo, dovrebbe avere di fronte alla... È difficile dirlo, bisogna un po' capire se la quescenza è solo radiologica o anche clinica. Nel caso entrambe le cose coesistano, cioè che lui ha quescenza sia clinica che radiologica, cioè non ha nessuna progressione di eventuali deficit e insieme un controllo ottimale delle nuove lesioni alla risonanza magnetica vuol dire che il farmaco sta funzionando molto bene e potrebbe continuarlo. Però è chiaro che è necessario conoscere con dettaglio il caso specifico, quindi è bene che sia il medico che segue quest'uomo a decidere. Ecco, io pregherei alla regia di mandare in onda il secondo contributo che ho preparato. Sono farmaci generici, tanto per parlare dei farmaci, sono tanti tipi di farmaci. C'è qualcosa forse di nuovo che permette al paziente una terapia orale e quindi una qualità di vita migliore? Assolutamente sì, è proprio di questi giorni la notizia dell'approvazione e presto la disponibilità nelle mani dei clinici di un nuovo farmaco che coniuga grande efficacia, quindi efficacia comparabile a quella che otteniamo con le terapie più più importanti e che sono nelle nostre mani, ma che è molto comoda perché si tratta di una cura per bocca, peraltro con un'assunzione molto leggera, poche compresse all'anno da assumere solo per due anni e con controllo della malattia che si prolunga anche nei due anni successivi. Questo bisogna vedere per quali casi, ovviamente, perché non è per tutti. Certamente, ci sono delle indicazioni precise, ma per questo farmaco in particolare comunque è arrivato all'impiego clinico dopo molti anni di sperimentazione e abbiamo ragionevole certezza di non avere effetti collaterali particolari. Questo è per rendere la vita sempre più normale dei pazienti nati di sclerosi multipla? Sì, sì, per fortuna il controllo che otteniamo oggi con le cure sulla sclerosi multipla è molto soddisfacente. Per molti la malattia si presenta soltanto con i problemi legati alla continua somministrazione, se non altro banalmente doversi ricordare di prendere una compressa o peggio di fare delle iniezioni. È chiaro che semplificare anche questo aspetto è di grande vantaggio. Invece, in fatto di terapie in generale, dicevamo anche nel lancio che si riesce in molti casi a bloccare l'andamento della malattia, a tenerla bene sotto controllo, più oggi rispetto al passato? Esattamente come dice lei, oggi abbiamo terapie molto efficaci e soprattutto siamo molto più ambiziosi nella aspettativa che poniamo su queste nuove terapie. Non soltanto una riduzione della frequenza delle riattivazioni delle ricadute cliniche, ma un vero e proprio blocco della malattia, sia in termini di nuove ricadute, sia in termini di attività e la risonanza magnetica, sia in termini di progressione di disabilità. In molti pazienti oggi riusciamo a ottenere tutte e tre questi risultati, indicando quindi un congelamento della malattia completo. Questo più se c'è una diagnosi precoce che non dopo? La terapia è molto, qualunque terapia è dimostratamente molto più efficace se iniziata precocemente, quindi assolutamente iniziare la cura subito dopo la diagnosi. Domenico ci chiede quali farmaci in prima fascia sono innovativi, cioè i farmaci per la sclerosi sono tutti ospedalieri? Sì, sono tutti ospedalieri, devono essere prescritti da neurologi dei centri sclerosi multipla che hanno esperienza con farmaci che hanno ovviamente dei problemi e che devono essere ben conosciuti e somministrati in modo appropriato. Anche quelli innovativi, quelli di cui abbiamo parlato adesso, sono in fascia ospedaliere, cioè non è che si va e si comprano, quindi in fascia ospedaliere si trova anche il non plus ultra della modernità. Assolutamente, sì, e immagino Domenico si riferisca a quelle che vengono definite le prime linee, non tutti i farmaci vengono, in genere i farmaci vengono stratificati in due gruppi, prima e seconda linea, intendendo per seconda linea i farmaci che devono essere prescritti solo in presenza di malattie o particolarmente aggressive oppure dopo fallimento di un farmaco di prima linea. I farmaci di prima linea sono gli interferoni, il rebif, il plegri di Avonex, il betaferon, il copaxone, che è un altro farmaco sempre a somministrazione sottocutanea, e delle terapie per bocca come Aubagio e Tecfidera, che sono più recenti e che pure danno un ottimo controllo sulla malattia. Quindi c'è una vasta gamma di farmaci per scegliere. Normalmente voi partite con uno e poi rimanete su quello? È una domanda banale, forse pure si cambia nel tempo, si può fare di tutto? La cura deve essere personalizzata e cucita addosso al singolo paziente. In qualche caso è preferibile un approccio di cautela, che si chiama de-escalation, in cui si inizia con un farmaco che coniughi un'efficacia ovviamente adeguata, ma anche che dia delle garanzie sulla sicurezza elevate, e in caso di fallimento si può poi passare a farmaci più aggressivi, che in qualche caso hanno anche eventuali rischi maggiori. In qualche altro caso invece è bene ragionare al contrario, aggredire molto pesantemente con un farmaco aggressivo la malattia, per poi sfruttare l'onda lunga che queste terapie più aggressive danno sul sistema immunitario e quindi agire in secondo momento con i farmaci più geni. Quindi varia veramente da persona a persona? Sì. Andiamo da 7-72. Ho avuto un primo attacco a 25 anni, malattia non diagnosticata, poi due ricadute, entrambe postpartum. Ora sono 11 anni che non ho più alcun sintomo. Posso quindi ritenermi tra quelli che hanno una forma benigna della malattia? Ma si parla di benigna e maligna o di leggera o non si usa? La terminologia benigna in effetti è scomparsa da quelle che erano dei criteri diagnostici a cui pure facevamo riferimento. Perché la malattia purtroppo è imprevedibile. Il fatto che sia stata benigna per così tanto tempo è certamente un indizio che non è particolarmente aggressiva, ma nessuno può dire come sarà in futuro una malattia. E quindi in questi casi come vi comportate? È bene che 7-72 vada comunque dal neurologo e ascolti se non sia il caso di iniziare una cura. Se si tratta di una vera sclerosi multipla, certamente è rassicurante una storia clinica come quella che ci descrive, ma direi che è il caso che una cura la faccia essendo una paziente molto giovane che ha ancora molti anni da vivere e quindi è bene che si protegga. Bene, andiamo da Michela88. Salve, 4 mesi fa mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla RR, non so che vuol dire. Remittente recidivante. Remittente recidivante. Sono arrivata al punto di dover scegliere quale farmaco di prima linea dover assumere, se in compresso o a seringa sotto cute. Secondo lei quali farmaco ha migliori giovamenti? Ma non è il paziente che deve scegliere, penso, no? Anche questo è difficile da rispondere, perché tutti i farmaci hanno dei pro e dei contro, quindi si deve un po' personalizzare la cura in base a tanti aspetti. Ad esempio un progetto di Michela88, immagino sia l'anno di nascita, è sicuramente una paziente molto giovane. Per esempio se ha pianificato da qui a qualche anno una gravidanza o comunque di mettere su famiglia, probabilmente dovrebbe assumere un farmaco che dà delle garanzie di maggiore sicurezza, perché magari è utilizzato da più tempo. Quindi ci sono diversi aspetti da considerare. Qualunque decisione è certamente da condividere col neurologo. Cioè in questo caso, per esempio, cambia il tipo di somministrazione e basta oppure uno ha un effetto e uno ne ha un altro? Perché è logico, se dice siringa o compressa, utilizzano compresse, ci saranno delle differenze anche di farmaco proprio? Sì, le terapie iniettive che si assumono per iniezione sottocutanea sono le prime che abbiamo avuto a disposizione. Abbiamo dati che ne confermano l'assoluta efficacia e l'assoluta sicurezza. È chiaro che questo è un valore aggiunto. Le terapie, sebbene chiaramente sia preferibile per ciascuno di noi assumere terapie per bocca e non dover ricorrere continuamente alle iniezioni, non sono pochi i casi in cui sono invece le terapie iniettive a rappresentare la terapia ottimale. L'esempio della gravidanza... Comunque, mi perdoni, è il medico che deve poter dire al paziente cosa è meglio? Cioè un paziente non è in grado di capirlo? Può dire quali effetti collaterali ha avuto se prende un farmaco? Anche questo effettivamente un po' sta cambiando. In Italia abbiamo sempre la tendenza, per molto tempo abbiamo delegato al medico qualunque decisione. Negli Stati Uniti per esempio invece mettono sul piatto diverse alternative e lasciano anche per deresponsabilizzarsi poi le eventuali conseguenze al paziente di scegliere. Credo che l'atteggiamento giusto sia una discussione aperta e una scelta condivisa tra il medico e il paziente. Sì, perché magari quello che il medico giudica per esempio inaccettabile può essere invece qualcosa che il paziente accetta volentieri e viceversa. Quindi avendo per fortuna a disposizione tanti farmici abbiamo modo di articolare delle decisioni. Più adatto. Andiamo avanti per cortesia. Vito Niccidi. Professore, buongiorno. Quando la presenza di un neurologo nelle commissioni mediche di invalidità siamo fortemente danneggiati, non vogliamo nulla, solo il riconoscimento di un diritto che solo lo specialista neurologo può riconoscere. S4 per un neuro, non si capisce, ha un significato, sarà un grado forse? Sì, credo sia un grado di disabilità riconosciuto. S4 per un neuro ha un significato, per un medico non neurologo è un numero. AISM sa bene delle nostre difficoltà. Ho capito. Essa intende DSS, che è un grado, che è il modo con cui si misura la disabilità. Ma capito non esistono i neurologi delle commissioni mediche di invalidità? Credo che lui abbia ragione, nel senso che non è in alcuni casi, non è obbligatorio in qualche caso. Quindi effettivamente, devo dire, AISM che lui ha giustamente citato, l'Associazione Italiana Sclerosi Ultima, è molto attenta a queste questioni. Quindi io suggerirei a questo paziente che, se capisco bene, ha un grado di disabilità e DSS di 4. Quindi certamente lui ha ragione a dire, tutt'altro che trascurabile, avrebbe come diritto ad essere ascoltato in una commissione. Io penso che AISM potrebbe dargli una mano, forse. Credo proprio di sì. AISM, come noi l'abbiamo sentita diverse volte, come Associazione Sclerosi Multipla, per i pazienti, queste associazioni normalmente danno delle indicazioni, danno una mano e sono loro stesse che combattono spesso per le commissioni o per avere gradi di invalidità. È proprio così. AISM è un partner fondamentale che abbiamo come medici per il trattamento della sclerosi multipla. È attentissima ed è certamente di grande aiuto in molti casi a risolvere questioni che vanno un po' al di là di quello che è il lavoro del medico, in qualche modo confinata nell'ospedale. Monica, buongiorno. Ho la sclerosi da 30 anni. Sono stata in cura con Interferone dal 2001 al 2015, quando ha iniziato una nuova cura con A.U. Baggio. Si pronuncia così? Non lo so. Sì. È un disastro. Ho dovuto interromperlo per gli effetti collaterali che mi dava. Nel frattempo mi è venuta una forte nevralgia al trigemino al volto. Ho subito un intervento di termolesione che è andato bene per quasi tre anni. Si è poi ripresentato e ho subito altri due interventi. Nel frattempo ho iniziato una terapia con gilenia che ho dovuto sospendere pochi giorni dopo per una tosse stizzosa scomparsa dopo la sospensione dello stesso. Dal 17 ottobre del 2018 sono scoperta la terapia e assumo sei farmaci per il trigemino, cinque tegretol, un lirica. Dovrà iniziare una nuova terapia con interferone, andiamo avanti, dei 15 giorni. Chiedo se la terapia per il trigemino può interferire. È una storia certamente sfortunata quella che ci racconta questa paziente, sia per il fallimento dei farmaci che avrebbero dovuto controllare la sua malattia, sia per lo sviluppo di questa purtroppo frequente complicanza della sclerosi multima che è la nevralgia del trigemino. La nevralgia che si presenta anche al di fuori della sclerosi multima ma che quando interessa paziente di sclerosi multipla è difficile da controllare con le cure. Non è infrequente questo tipo di storia, quindi più interventi di termolesione fatti per risolvere il problema che hanno avuto un controllo soltanto limitato nel tempo. e quindi assumere il tegretol e il lirica, così come sta facendo questa paziente, credo che sia inevitabile. Per quello che riguarda l'interferenza eventuale che la cura per la nevralgia del trigemino può avere con una nuova terapia interferonica che le è stata proposta, direi che può stare tranquilla, non c'è nulla da temere, non c'è la possibilità che l'interferone possa esacerbare la sintomatologia dolorosa a carico del nervo trigemino. Bene, andiamo avanti per cortesia perché qui vedo che arrivano le domande e il computer si impalla. Eleonora Cinco, ho letto su diversi siti che è arrivato in Italia un nuovo farmaco orale. Quali vantaggi può comportare? Che cosa ha di diverso rispetto agli altri? Sì, si tratta di un farmaco che si chiama cladribina, sono delle compresse... Cladribina è il nome della sostanza, diciamo. Sì, il nome della sostanza, si chiamerà Mavenclad, credo, anzi sono sicuro, anche in Italia avrà questo nome. Si tratta di una terapia molto comoda e molto efficace, è stata studiata in diversi trial clinici e grazie ai risultati estremamente convincenti sia di efficacia che di sicurezza è stata approvata. Quali sono i vantaggi? Chiaramente si tratta di un farmaco che ha un effetto sul sistema immunitario molto importante e quindi certamente appartiene ai farmaci con grossa efficacia clinica. Il vantaggio, oltre che l'efficacia, è anche la modalità di somministrazione. Si tratta appunto di compresse che si assumono soltanto per poco meno di una settimana, il primo anno, si ripete un secondo ciclo dopo un mese, poi si riprende con questa stessa formulazione l'anno successivo e poi si interrompe la cura. E per i due anni successivi i trial fanno vedere che si mantiene l'effetto, quindi un'onda lunga che copre dalla riaccensione di malattia in modo molto efficace. Chiaramente questo ha un impatto oltre che sulla comodità, sul fatto che il paziente così può dimenticarsi in qualche modo della malattia. Non si sente malato, certo. E anche su quella che è l'aderenza, un problema che abbiamo avuto soprattutto in fase, nell'epoca dei farmaci solo iniettivi, era che i pazienti dopo un po' andavano incontro a quello che si chiama injection fatigue, cioè difficoltà a mantenere il ritmo delle assunzioni prescritte. Quindi le tre iniezioni settimanali o le quattro settimanali o le sette settimanali come per un certo tempo. E quindi era molto frequente che ci fossero dei fallimenti terapeutici dovuti al fatto che il farmaco veniva assunto meno di quanto non venisse prescritto. Per quale persone però può essere utile questo farmaco? Per quale tipo di sclerosi? Sono l'approvazione che avrà questo farmaco di forme di sclerosi multia attiva che quindi hanno o segni di un'aggressività particolarmente spiccata o che semplicemente non danno garanzie di controllo con altri farmaci o perché questi farmaci possono avere delle controindicazioni o perché hanno fallito. Quindi un'essenzione molto ampia, quindi la maggior parte dei pazienti oggi colpiti da questa malattia può avere in questo nuovo farmaco certamente una risorsa da considerare. Andiamo ad Antonio. Attualmente sto prendendo Tecfidera da quattro anni ma sembra non avere più effetto. A quale farmaco mi consiglia di passare? È difficile rispondere a questo. Però questo si può dire che, quello che dicevamo prima, se un farmaco non ha più effetto ce ne stanno altri? Sì, sì, sì. È un po' come per il Parkinson, diciamo, non c'entra niente il Parkinson assolutamente, che finisce l'effetto di uno, si prova con un altro, poi ricomincia un po' altalenante anche in questo caso? Sì, sì, è così. La fortuna di avere a disposizione tante molecole è proprio questo, che non bisogna perdere fiducia o scoraggiarsi quando uno di questi farmaci fallisce. Non sempre il fallimento un farmaco significa che quella cura, che quella malattia è più aggressiva. Spesso vediamo che pazienti che non rispondono a un farmaco poi prendono un altro farmaco di efficacia giudicata, più o meno equivalente, e riescono ad avere un controllo ottimale. In linea di, però, così come linee guide generali, laddove c'è un fallimento a un farmaco, è bene passare a un farmaco, diciamo, di seconda linea, più aggressivo, e ne abbiamo per fortuna tante disposizioni. Ovviamente non può dirlo lei, perché non è il quadro della situazione, ma il neurologo di questo signore può personalizzare la sua terapia. Certamente. Andiamo veloci, che mancano pochi minuti. Irene, otto mesi fa ho scoperto la sclerosi multipla e da allora in cura con Rebif 44. Qualche giorno fa la risonanza e due nuove lesioni. Devo cambiare terapia, ho 33 anni e non ho avuto sintomi per queste due nuove lesioni cerebrali. Anche questo certamente è una bandierina che deve segnalare un certo allarme. È importante sapere quando si sono formate queste lesioni, perché il fatto che abbia avuto due nuove lesioni alla risonanza fatta otto mesi prima, otto mesi dopo l'inizio della cura, può significare che la lesione si è formata o pochi giorni prima, oppure nei giorni successivi all'inizio della cura. Quello che voglio dire è che se così fosse e probabilmente se si fossero le lesioni formate subito dopo l'inizio della cura, ancora il farmaco magari non ha avuto tempo di funzionare per bene. Chiaramente il caso è diverso, però due nuove lesioni certamente ha senso rifare un nuovo contro di risonanza a breve se non si vuole cambiare la cura. Ho 59 anni, sclerosi diagnosticata nel 2006, remissioni e ricadute. Ora è secondaria progressiva, sono in trattamento con Tisabri ma 3-4 mesi devo cambiare. Disabilità 8, ci sono cure per fermare la progressione e recuperare? Purtroppo questo è difficile ottenerlo oggi, disabilità 8 è un livello di disabilità importante che indica che la malattia ha fatto una certa strada. Le cure che oggi abbiamo per quanto potenti, per quanto efficaci hanno lo scopo di prevenire, mirano a prevenire l'accumulo di disabilità. In questo caso anche se ci sono dei farmaci approvati per le forme progressive di malattia, ce n'è uno che si chiama Crelizumab, un altro che si chiama Siponimod per le fasi secondariamente progressive di malattia, disabilità 8 indica purtroppo che siamo un po' fuori da quello che può essere poi una speranza di controllo. Anche se chiaramente bisogna conoscere il caso, se ci sono lesioni alla risonanza magnetica che si accumulano nel tempo, certamente c'è anche margine terapeutico. Bene, speriamo di sì per Chica. Noi ringraziamo tutti voi di essere stati con noi, il tempo è scaduto. Ringraziamo il professor Centonse, direttore di neurologia di Neuromed di Pozzilli. Speriamo di averla con noi anche altre volte perché le domande sono tantissime. E in bocca al lupo per la ricerca perché ce n'è tanto bisogno. Grazie a tutti voi, prossimo appuntamento con la medicina è giovedì prossimo. Grazie.